La giornata di oggi è stata una giornata molto importante perché in occasione della giornata internazionale della musicoterapia abbiamo deciso di invitare le persone a riflettere su questo tema molto importante che è il tema della terapia con canale artistico. Io sono una psicologa, una psicoterapeuta e un'arteterapeuta e utilizzo proprio questo canale artistico per migliorare e intervenire nell'ambito riabilitativo. Il mio intervento ha riguardato prevalentemente la necessità di un lavoro d'equip tra figure differenti, tra sanitari e musicoterapisti affinché ci possa essere un miglioramento del servizio a favore dei pazienti però anche a favore di ambiti socioeducativi affinché ci possa dare una complessità e una struttura corporea più densa a interventi riabilitativi in vari tipi di settori. Grazie.